DAG Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, manocalzati nei pressi di Avellino Est. Da anni soffia un vento molto speciale, ma anche molto pernicioso, quello dell'antipolitica. Chi ricopre funzioni pubbliche, elettive, non gode di buona stampa, ovvero è fatto puntuale bersaglio di giudizi anche feroci che non ammettono appello, i partiti politici poi, o almeno ciò che di essi è rimasto manco a parlare nel gradimento degli italiani, da tempo boccheggiano nei bassi fondi delle classifiche. Quella che una volta si chiamava classe dirigente, oggi molto più sbrigativamente si chiama casta. E quando dici casta dici privilegi veri o presunti che la società civile, anche qui come si chiamava una volta, non intende più mantenere, sopportare, pagare. Prendete i vitalizi, perché da questo partiremo stasera a tempo reale, anche per capire se è possibile dove ci stiamo infilando e se ci stiamo infilando nella giusta direzione. Benvenuto a Giuseppe Gargani, che se presento come politico professionista, probabilmente non la prende come un'offesa. Anzi, ma nessuno la prende come un'offesa. Io questo voglio dimostrare oggi. Ecco, quindi... Non la prende come offesa perché c'è un'antipolitica, c'è una reazione, c'è un malcontento. Quando c'è una crisi economica e una crisi sociale come quelle che attraversiamo, c'è sempre del malcontento. Io voglio dire una cosa, approfittare in una televisione provinciale, regionale, insomma, non nazionale, che è una televisione molto più seria di quella nazionale, perché chi alimenta l'antipolitica sono le televisioni. Quando stamattina per caso io ho visto a La Corà, le scritte che vengono a sovraimposizione, come si dice, i vitalizi passano alla Camera, palude al Senato. Io farò fare un'interrogazione parlamentare alla settimana. Come si permettono? Perché? Il Senato non ha fatto niente. Non ha detto che se la propria non la propria non la propria non la propria. Allora, chi si avvicina alla televisione e legge la mattina la palude del Senato. Il Senato è una palude. Il Senato ha una storia, una tradizione grande della democrazia. Allora, i vitalizi sono una cosa di una gravità estrema. Entreremo tra poco, entreremo in tutti i meriti. Allora, siccome le televisioni provinciali, regionali o interregionali, spiegano di più. Sarà per il tipo di organizzazione, sarà perché ritengono di non dover fare una propaganda. Tg3 fa la propaganda alla sinistra, per così dire. Tg1 era così, almeno storicamente, ma adesso forse i termini sono un po' diversi. Per cui, d'altra parte, io dico una cosa fondamentale. Chi accarezza l'antipolitica tradisce la sua storia. È un partito come il PD che questa volta l'ha tradito la sua storia in maniera fondamentale. Ha tradito Nilde Otti che aveva detto che il Parlamento era una cosa al di sopra e al di fuori del comune perché rappresenta la nazione e quindi non ha privilegi, ha garanzie, ha un'autonomia che in tutto il mondo c'è e che con la legge dell'altro ieri è stata eliminata. Io ho chiesto all'onorevole Gargani di essere ospite di Tempo Reale stasera perché l'onorevole Gargani intanto ha un curriculum di politico professionista di tutto rispetto. Professionale diciamo, professionista, termine forse semantico un poco più complicato. Come ha detto come lo... Professionale. Professionale, professionale, va bene. È un politico professionale. Sei legislature nazionali con la democrazia cristiana dal 72 al 94, è stato anche sottosegretario alla giustizia dal 79 all'84, due legislature europee, è stato anche commissario, tre legislature europee, chiedo scusa, ed è stato anche commissario dell'autorità per le garanzie sulle comunicazioni. Adesso, siccome so che lei intanto va controcorrente rispetto, diciamo così, a questi peli che si lisciano in nome anche dei luoghi comuni, eccetera. Al pensiero unico, ammesso che ci sia il pensiero. Ho elencato sinteticamente il suo curriculum, ma lei pensa che a casa abbiano riflettuto sul curriculum, sulle cose che ha fatto bene, quelle a che ha fatto male, o piuttosto sul fatto che si sopposti la domanda chissà quanto guadagna di pensione l'onorevole Gargano. Questa seconda, non la prima. La seconda, hanno pensato. Guadagna poco o guadagna molto? Guadagno, certamente, rispetto alle pensioni, diciamo, normali, una pensione che non è d'oro, che non è privilegiata, è una pensione che va dalle 5.000 ai 6.000 euro, come è in tutta Europa, come è nei paesi europei, come è rispetto al Parlamento europeo, perché i parlamentari europei pigliano 6.500 euro netti, e poi pigliano il 70% se vanno in pensione dopo quattro legislature. Quindi è abbastanza omogenizzato. Io pensavo di più, tra Parlamento nazionale e Europarlamento, pensavo che l'indennità di pensione fosse... Io ho fatto il massimo delle legislature, faccio parte di quelli che sono al top, e la retribuzione è questa, assolutamente buona, assolutamente non... Ma non è una pensione d'oro. Insomma, non paragonabile a quella di un giornalista di provincia o a un metalmeccanico, insomma, deve convenire su questo. Ma non è paragonabile alle buone uscite di 30 milioni o alle pensioni che superano i 20.000 euro, insomma, per cui... E non si parla di questo, non si capisce perché. Il paragone sussiste, però lì sono soldi privati. Perché c'è, quelli della RAI pure sono soldi privati. No, RAI no, ma penso... Sono diventate tutte artisti. Penso a Cattaneo, no? Le televisioni locali non ci stanno gli artisti. Sì, sì. Mentre Fabio Fazio, come si chiama lui, è un artista. Non ho mai pensato che fosse un artista? Senta, onorevole Gargani. Un concetto di artista molto... Lei, a parte il curriculum professionale, è un grande conoscitore dei palazzi, dei meccanismi, quelli politici, ma anche quelli che regolano, diciamo, la redazione, il confezionamento delle leggi, eccetera. Partiamo da dove abbiamo cominciato, per la verità. Secondo lei, quando e dove, insomma, la classe politica ha perso la sua reputazione? Perché questo è un dato incontrovertibile. Poi vedremo quali sono gli aspetti che danno ragione a questa tesi e quelli che invece sono abbastanza pregiudizievoli e pregiudiziali. Io l'ho scritto varie volte, che negli anni 90 c'è stata una crisi non solo nazionale, una crisi europea, forse una crisi mondiale. La fine del comunismo e la fine delle grandi ideologie, di cui abbiamo sempre parlato, del Novecento, hanno spogliato di valori i partiti. E i partiti sono quindi diventati personali. Si è perduto un riferimento valoriale importante, c'è stato un egoismo e c'è stato un rancore sociale che la crisi economica ha alimentato e quindi questa crisi di partiti ha portato a un disamore. La rappresentanza è andata in crisi, per cui noi non rappresentiamo più i deputati, non rappresentano più la realtà sociale, perché non si sono più dedicati al bene comune. Ed è venuta una crisi, una rottura del rapporto tra i cittadini e i cittadini. Da rappresentanti dell'unità della nazione sono diventati l'elemento divisivo per un paese. E questa è la crisi. Per cui, siccome, tanto è vero che la cosa che più stride è che si vuole eliminare quel portato della Costituzione che dice che i deputati sono responsabili soltanto della loro decisione, quindi sono autonoma anche rispetto ai partiti. Si vuole eliminare quelle per soggettarle a partiti che poi non ci sono più. Per cui ci dovrebbe essere all'interno del Parlamento una disciplina di partito rispetto a partiti che non ci sono e che sono sostituiti dalle persone che danno ordine in qualche modo o che danno o sono riferimenti personalistici appunto e egoistici, a differenza dei partiti che rappresentavano una realtà più vasta e che insieme poi rappresentavano la democrazia del Paese. Ecco, se se ne esce telegraficamente, perché lei ha scritto anche un libro dalla fine della politica, la rinascita della politica, qualche anno fa era più ottimista, mi pare di capire. La rinascita della politica può avvenire soltanto se riportiamo il sistema proporzionale per la elezione dei rappresentanti della Camera e del Senato. Perché se ci sta un riferimento capace di superare l'indistinto, perché oggi i partiti sono tutti indistinti, se 400 deputati passano da un gruppo all'altro è perché cambiano la sedia, ma non cambiano valore, non cambiano riferimenti, non cambiano identità. La proporzionale porta inevitabilmente a dover far presentare all'opinione pubblica una identità, una lista che ha una sua identità. Il maggioritario che fu istituito dopo il terribile referendum di segni e dopo la legge Mattarelli ha portato ad ammucchiate. Si legge tutti i giorni sul giornale che basta stare insieme per vincere, poi non si capisce insieme perché si sta e non si capisce perché... Stare insieme è molto relativo perché in questa legislatura, e manca ancora quasi un anno, anche se siamo, come dire, oltre 500 parlamentari hanno cambiato... Hanno cambiato che? Non hanno cambiato niente, hanno cambiato sedia. Non hanno cambiato una identità rispetto a un'altra identità, perché i partiti sono indistinti. Bisogna avere il coraggio di dire questo, questa è una realtà. Quindi sono passati da un indistinto all'altro, le dici? Sì, i cittadini percepiscono questo, perciò sono sfiduciati, ma perciò al tempo stesso sono scettici rispetto a qualunque... Se si introduce di nuovo il proporzionale, perché la raccolta del consenso è importante in un sistema, le leggi elettorali sono importantissime, corroborano, determinano la democrazia, per cui se il sistema proporzionale porta a liste che hanno una identità e che poi concorrono, perché le repubbliche parlamentari sono fatte, a differenza delle repubbliche presidenziali, sono fatte perché in Parlamento si fanno le maggioranze, in Parlamento si fa il governo. La cosa più cretina che io ho ascoltato nella mia vita è quella di Renzi che dice che alla sera delle elezioni bisogna sapere chi ha vinto e chi ha perso. Le sisteme presidenziali si sa questo, le sistemi parlamentari, questo è un sistema parlamentare. Renzi si riferisce anche alle liturgie che un po' conosciamo, della prima e anche della seconda repubblica, quando dopo le elezioni cominciava la lista dei 30-40 delegazioni al Quirinale, lo stancheggio... No, questa è una deformazione. No, nel 1992 in Italia c'erano 11 gruppi, oggi ce ne sono 111, io ho scritto, saranno 100, dico 111 per arrotondare, 11 partiti, 11 gruppi e sembravano tanti. Oggi sono diventati col maggioritario, perché il partito personale ha consentito che ogni persona faccia sempre. Perfetto, veniamo a noi, partiamo, come dire, legge Richetti, si applicherà a partire dalla prossima legislatura, il calcolo delle pensioni avverrà con il sistema contributivo, secondo il presidente dell'Inps, Boeri, gli attuali assegni verranno decurtati, verrebbero decurtati del 40%, soltanto i parlamentari e i consiglieri regionali che abbiano esercitato il mandato per almeno 5 anni avrebbero la pensione. L'età per ottenere la pensione viene adeguata a quella prevista dalla legge Fornero. Fino ad allora la pensione verrebbe versata solo a chi ha almeno 65 anni. Provvedimento propagandistico e di scadente populismo. Un personaggio influente della Prima Repubblica come Giulio Lidonato, ex vice segretario di Craxi. L'ha detto pure Ugo Sposetti. Ugo Sposetti, il tesoriere dell'ex partito. Sì, 3600 euro al mese dopo tre legislature, dice Lidonato. Io sono costretto ad arrangiarmi, dice Lidonato, a lavorare come consulente presso lo studio di avvocato di una mia nipote. Io su questo devo dire tre o quattro cose. Sia pure rapida. Una che nel 1992 fu fatta una cosa devastante e si è in qualche modo dato un colpo alla rappresentanza e al prestigio del Parlamento. Quando il Parlamento, quasi all'unanimità, io lo posso dire oggi con orgoglio, a distanza di 25 anni, modifico l'articolo 68 della Costituzione per cui i parlamentari non hanno più le garantigie che storicamente hanno tutti i paesi del mondo e che tradizionalmente hanno garantito la rappresentanza autonoma e il ruolo dei rappresentanti che i parlamentari hanno. La deliberazione dell'altro ieri affossa definitivamente lo Stato di diritto. Sa perché? Perché a me non mi piace parlare degli emolumenti. Ho detto l'ammontare più o meno di questo. Perché chi ha tante legislature è intorno ai 6.000. Chi ha meno legislature naturalmente man mano che scala il numero è molto meno. Una società e uno Stato di diritto si mantiene se c'è la garanzia, l'aspettativa del domani. Se i diritti cosiddetti acquisiti non si discutono. Allora io voglio dire che nella storia del Paese e i cittadini che ci ascoltano stiano ben attenti compreso il fascismo non si è mai permesso di scomodare leggi che potevano, che avevano valore rispetto al passato. Mussolini nel 29 è una cosa che forse pochi sanno, pure io ricordavo, l'ho studiato, l'ho letto in questi giorni. Nel 29 stabilì che i decreti leggi che fa il governo quando c'è l'urgenza per un provvedimento stabilì che duravano in vigore 200 giorni, quindi praticamente un anno. E quindi il governo faceva che voleva, era un governo autoritario come sappiamo, fascista, e il Parlamento quindi era in surplus, non contava. Ma Mussolini non si è mai permesso di toccare i diritti che i cittadini acquisiscono. I diritti acquisiti sono la garanzia della pace sociale, allora quando si dice con una ignoranza senza pari che queste cose che sono state fatte per i deputati, cioè i diritti acquisiti discussi, rimessi di nuovo in discussione come quelli pregressi che si appartengono agli ex deputati, quando si dice che valgono solo per i deputati e non per gli altri, si dice una cosa ma così così sgradevole, così rappresentante dell'espressione della ignoranza che nulla più. Se la Corte Costituzionale che ha il 99% non può accettare poi torniamo sulla presunta incostituzionalità, la costituzionalità, no questo lo devono sapere i cittadini, se la Corte Costituzionale accettasse la costituzionalità di questa legge tutte le pensioni dovrebbero essere riviste, cioè ricontate, perché prima c'era il cosiddetto retributivo, per cui la pensione era sganciata dai contributi versati. Oggi c'è il contributivo. Ma questa cosa dobbiamo ricordarlo, è dal 2012 che non c'è più il vitalizzo, sostanzialmente è scomparso come lo abbiamo conosciuto per decenni. I giornalisti come te hanno avuto il retributivo fino al 31 dicembre del 2016, quindi se si devono rivedere per i deputati, visto che i deputati devono essere come tutti i cittadini, bisogna rivedere le pensioni di tutti, ricontarle, ci sono le baby pensioni, sarà stato un errore storico, sarà stata una cosa normale, ma non è un furto, non era un reato, sono state date le pensioni con il retributivo. Allora se dobbiamo ricalcolare quelli degli ex deputati, dobbiamo ricalcolare le cose che le dice onorevole Gargani hanno un fondamento anche giuridico, di buon senso. Anche giuridico e al giurista mi ricordo, perché c'è un particolare che potrebbe essere, che potrebbe fare la differenza, perché quando parliamo di diritti acquisiti in riferimento ai vitalizi o ex vitalizi come li vogliamo chiamare, parliamo di un istituto, diciamo così, che intanto è distinto dalla pensione propriamente detto, anzi, è tutta un'altra, qualunque diritto ma l'attività politica qualunque diritto lo sto chiedendo al giurista, lei mi dia la risposta e io mi fiderò della sua risposta, cioè l'attività politica non ricade per un verso nella disciplina che regola il diritto del lavoro a cui viene sottratta ed è distinta dalla figura del rapporto di pubblico impiego e dunque non ricade nelle regole della pubblica amministrazione. cioè voglio dire una tesi questa che parla di un diritto che non sarebbe acquisito così come sono acquisiti altri diritti di chi fa altre civili mi dia la sua risposta di giurista e di politico. Per la verità questa non l'ha detto nessuno, nessuno ha immaginato di dire una cosa di questo tipo, per cui capisco che lei semplifica per farmi la domanda. Allora, ancora più, perché siccome i regolamenti parlamentari hanno valore di norma costituzionale, le attribuzioni volute dalla Costituzione, perché lo statuto Albertino diceva che i deputati dovevano essere quelli che avevano e il censo che avevano i soldi e che quindi erano ricchi. Poi la Costituzione repubblicana ha detto che per l'autonomia e la indipendenza del deputato è necessaria una retribuzione. Allora, siccome la retribuzione è stata stabilita dalla Camera, l'interno della Camera, si chiama interna corporis, l'interno del corpo della Camera e queste norme hanno valore costituzionale, ancora di più non si possono toccare. Sono doppiamente requisiti questi diritti vorrei dire esagerando. sono uguali agli altri e c'è il centro che non si chiama pensione. Sono uguali agli altri. Lei citava prima per esempio la Francia dove l'indennità di mandato addirittura venne prevista durante la rivoluzione francese ma anche in Italia durante il periodo rivoluzionario intorno al 1799 venne introdotta l'indennità di mandato. La Francia per esempio il parlamentare va in pensione a 60 anni, a 62 dall'anno prossimo. questa è la legge che c'è. La durata minima per ottenere il massimo importo di pensione mensile è stata portata a 7 legislature 31 anni mentre prima ne bastavano 5 con 23 anni. In Francia però l'ammontare dell'indennità diciamo così di accompagnamento alla pensione è molto bassa intorno a una media di circa 2.000 euro. Ma quando va? In Francia Ma quando mai? Insomma siamo intorno tra i 2.000 e i 3.000. Ma assolutamente no. Di più? Ma certamente sono abbastanza omogenizzati per l'ordine del 10 o del 20% E però vi è dato il cumulo anche con pensioni professionali sia private che pubbliche cioè se uno prende la pensione da avvocato non la può cumulare con quella politica ma se si versano i contributi Il cumulo in Italia è un po' si è esagerato questo è il punto sul quale voglio richiamare Si è esagerato come per esempio si è esagerato se un deputato sta solo 4 mesi in una legislatura di 5 anni e versa naturalmente i contributi di tutti i 5 anni comincia maturo una pensione che piglierà 60 anni questo può essere certamente un'esagerazione basterebbe togliere questo ma io vorrei tra l'altro informare lei forse cittadini certamente che siccome dal 1911 il contributo di solidarietà è stato attribuito 2011 2014 a tutti i deputati 2014 il 31 dicembre 2016 e a marzo è stata fatta una delibera l'interna corporis della Camera l'ufficio di presidenza con la quale è stato tolto il 40% a chi piglia le pensioni come me cioè al mese hanno tolto 750 euro al mese e allora si fa questo provvedimento si fa pure la legge è un rancore sociale contro è una ostilità e basta non risponde a nessuna logica e questa invidia sociale questa antipolitica che porta a dire io se fossi stato del PD mi sarei dimesso mi sarei vergognato quando Di Maio alla Camera ha detto abbiamo fatto scacco al re vi vedo dalle facce siete tutti turbati ma dovete votare perché ve l'ho imposto io Renzi farebbe bene a fare un altro mestiere anziché accontentare l'antipolitica di Grillo il quale vuole l'umiliazione Grillo contro il Parlamento lo dice Rosso significa che ci deve essere la Repubblica diretta non ci deve essere la rappresentanza quindi è coerente è coerente ha vinto ha stravinto e tutti proni rispetto a questa vittoria che non è una vittoria del Parlamento perché poi lei non sa ha fatto la storia delle pensioni i cittadini devono sapere che la legge per la prima volta prevede io ho scongiurato di non farlo ho detto levate vitalizi azzerati ma non scrivete che il deputato è dipendente dello Stato sta scritto nella legge che sono dipendente dello Stato in nessun paese al mondo è evidente mi pare proprio e sta scritto così io sono allucinato io ritengo che ci sia bisogno poi parleremo di politica la democrazia è in pericolo ma quando un Parlamento fa questo l'unica cosa sulla quale do ragione a Renzi chi mi conosce si scandalizzerà bisogna mandare questo Parlamento a casa è roba da chiota il tempo sta arrivando è roba da chiota ma bisogna mandarlo prima ci dobbiamo fermare per qualche minuto per la pubblicità poi riprenderemo e partiremo un po' dal cumulo dalla questione delle indennità che vengono cumulate perché la regione Campania ieri l'altro ha fatto una cosa secondo me molto discutibile certamente poco chiara proprio in relazione alle indennità o ai cosiddetti vitalizi parleremo della incostituzionalità e torneremo poi sul problema politico che sta al fondo di questo dibattito nel quale per esempio si citava insomma oggi alla Camera è stato approvato il decreto legge sui vaccini tre deputati sono stati aggrediti all'esterno di Montecitorio hanno riparato in auto e sono stati salvati dalla Digos dai manifestanti Novax per esempio il clima è questo su molte cose oggi nel paese di Prato queste cose non le fa tutti i giorni perché a furi di aizzare di aizzare di aizzare ci sarà alla fine ci fermiamo torniamo tra pochissimo Dug Auto concessionaria ufficiale Mercedes-Benz mano calzati nei pressi di Avellino Est Dug Auto concessionaria ufficiale Mercedes-Benz mano calzati nei pressi di Avellino Est diritto o privilegio stiamo parlando dei vitalizi e non solo di questi ma anche della politica del clima politico che respiriamo a tutte le latitudini nel nostro paese clima che si surriscalda che porta a divisioni anche feroci per esempio quando si parla di indennità parlamentari di vitalizi o ex vitalizi che dir si voglia lo stiamo facendo con l'onorevole Giuseppe Gargani il cumulo delle indennità la regione Campania ha fatto una cosa un po' strana in qualche modo ha fatto diciamo così la stessa cosa al contrario della legge Ricchetti che lei ha come dire scarnificato poco fa perché che cosa ha fatto la regione Campania ha varato una legge proprio sulle indennità agli ex consiglieri regionali e cioè la decisione di rinunciare al vitalizio è rimessa alla volontà del diretto interessato e poi ha detto che mantiene la possibilità di mantiene la possibilità di cumulo stiamo parlando dovremmo vedere un grafico per quanto riguarda la Campania onorevole Gargani i 246 ex consiglieri regionali che costano in termini appunto di indennità pensionistiche chiamiamole così 10 milioni e 752 mila euro l'anno ecco di questi 246 14 sono irpini 4 hanno il doppio vitalizio Mancino Iannacone Flammia De Luca uno ha il doppio vitalizio tra quello di consigliere regionale e di ex parlamentare nazionale quanto il presidente Mancino il consigliere regionale Mancino ha avversato i suoi contributi ma io sto dicendo perché è doppio non è doppio cumula quello che ha fatto così come il cumulo se io pago ho pagato per tutta la vita i contributi alla cassa nazionale degli avvocati poi torniamo un attimo sui contributi ma intanto 4 con doppio vitalizio semplifico e vale l'espressione usata da Gargani diciamo così e 1 con triplo vitalizio che è Ortenzio Zecchino intanto questa legge è un po' strana cioè rimettere alla volontà dell'interessato vero che nella legge Ricchetti è previsto che ove i consigli regionali le regioni anche quelle a statuto speciale non si adeguassero verrebbero dimezzati i trasferimenti che il governo lo stato centrale trasferisce alle regioni alla voce indennità che peccato allora lei che vi dice di questa legge che è un po' stando al suo giudizio sulla Ricchetti è un po' il contrario e lo stesso di questo sono leggi ipocrite sono leggi semaforo c'era un avvocato un busotto quando io ero presidente della commissione giustizia che diceva questa legge non dovremmo approvare la presidenta rivolta a me perché è una legge semaforo che indica solo da quale parte bisogna andare ma non è una legge concreta quando nella legge Ricchetti c'è stato un emendamento io mi sono molto divertito per dire queste cose che stiamo stabilendo valgono solo per gli ex deputati e non per gli altri e comunque vale è operativa è operante la prossima legislatura per quanto sia alle porte la prossima legislatura è finita la legislatura vale dal giorno dopo che vale vale se è retroattiva vale i 5 Stelle avevano proposto un emendamento per farlo in casa è stato bocciato non vale per gli altri tutti hanno detto anche il proponente che è da Torre che è un deputato bravo il meraviglio di lui per la verità perché poi se fin anche ha astenuto e io ho molta stima di questo deputato tra l'altro è Salernitano che ha detto sì per rendo conto che è una norma di questo tipo ma serve per dare una indicazione serve per dare un messaggio come se le leggi servissero per dare un messaggio a lei o a me e quindi siamo alla crisi vera della democrazia e della legislazione e io si soffro di questo questo è una è un periodo terribile oltre alla crisi economica c'è una crisi giuridica di cultura c'è una crisi di coscienza del ruolo che si hanno quando i deputati in carica stabiliscono che sono dipendenti dello Stato poi non si capisce da chi sono dipendenti dalla Boldrini quindi se sono dipendenti devono essere pagati lo straordinario devono essere pagati quando lavorano cioè si mette riparo alle cose che sottolineavo nella prima parte attraverso una configurazione del tutto anomala perché non c'è Parlamento al mondo che si chiami Parlamento che ha deputati che possono avere un rapporto di subordinazione insomma la democrazia è l'autonomia l'indipendenza il non dover rispondere al partito o nessuno se non la propria coscienza nel esercitare il mandato nel votare è una conquista degli ultimi secoli insomma si mette in forza questo senza che ci sia una reazione con un apigrizio e una rassegnazione che porta alla fine della democrazia perché io sono sempre convinto un po' di storia che ovviamente ognuno di noi conosce le democrazie finiscono quando c'è una rivoluzione di piazza oppure quando tutti sono stanchi l'uomo solo al comando che si immagina possa risolvere i problemi questa frase giornalistica ma la ripeto è la pigrizia è l'esaurimento della democrazia si è stanchi della democrazia e anche perché onorevole Gargani lei prima faceva riferimento alle cosiddette leggi semaforo no? in questa legislatura sono state numerose leggi che avevano anche diciamo così una pretesa strutturale che sono state censurate se non bocciate da questo quell'organo costituzionale a cominciare dalla corte costituzionale ma chi le scrive le leggi in Parlamento? oggi non lo so lei? sono roba da chiodi sì ma chi le scrive i funzionari della Camera del Senato commissionano la legge dove deve essere scritto ed è stata una cattiva congiunzione astrale quella di questa legislatura che tante leggi siano state diciamo così censurate e bloccate ma perché tutti i deputati sono stati sono stati trovati senza una trafila che porta alla maturazione che fa classe dirigente sono stati trovati come le trovate Macron allora ha ragione chi dice vabbè ma ci dobbiamo pagare anche approfitto approfitto per dire 10.000 euro al mese a chi non sa scrivere le leggi va tanto di moda in questo periodo e che oggi si dimostra in queste ore come contro l'Europa pur avendo fatto una campagna sa come le ha candidati noi non avevamo un partito le ha candidati col curriculum che hanno mandato uno che teneva 105 110 in lote era bravo se ne accorgerà in Parlamento che questi deputati non sono diventati classi dirigenti e allora quanto fanno le cose di cui vi sto parlando quando si fa una legge un emendamento in cui si dice questa cosa non vale per Vitale ma voglio di scrivere che non vale per Vitale perché se c'è una norma vale per tutti e quindi come si può fare una cosa vuol dire che sono dilettanti allo sbaraglio e uno come me lo può dire non ho difficoltà l'avrei detto vent'anni fa io ho votato contro l'abrogazione delle garantigie del parlamentare perché tutti i parlamenti del mondo devono avere i deputati che hanno le loro garantigie per questo lei a Bruxelles ha votato anche contro quella famosa a suo modo battaglia contro gli assenteisti i parlamentari che non cioè contro la pubblicità dell'attività dei parlamentari così ho letto no l'hanno messo no quella è un'altra frase queste frasi fatte che fanno poi i giornalisti il più bravo di tutti è un tale Gilletti che mi pare per fortuna al canale 1 hanno tolto di mezzo Gilletti ma non è mai un bene quando un giornalista viene tolto di mezzo no no tolto da tolto da Gilletti insomma la democrazia del telecomando e la democrazia del telefono e la democrazia del telecomando da questa propaganda cattiva sì dico perché Gilletti stiamo assistendo in diretta ai tentativi dell'onorevole Gargani di spegnere il telefono è stata una disattenzione rassicuriamo tutti c'è riuscito allora diceva diceva era quello che più ha alimentato l'antipolitica parlando di privilegi queste parole diventano magi i deputati hanno un privilegio quale? devono avere delle garanzie dell'autonomia che i grandi patri dalla Costituente in poi hanno scritto in Costituzione e hanno detto se no come fanno a rappresentare perché il deputato non è un impiegato dell'ufficio del registro o un grande direttore generale o un grande manager è un rappresentante del popolo libertà, autonomia tranquillità per il futuro al parlamentare ma quando poi la vita dei parlamentari incrocia la cronaca sempre più spesso che toglie reputazione alla classe politica beh i conti poi tornano all'onorevole Gargani se si devono punire nonostante rappresentanti del popolo perché sono zero la cronaca rincorre se stessa in questo settore che non sono idonei allora beh no che non sono idonei è già un altro discorso che stanno in affari loschi che fanno affari loschi la cronaca è piena di politici che stanno dentro è un altro luogo comune generalizzare generalizzare no però insomma il fatto che sia così ricorrente questa cronaca beh induce insomma l'opinione pubblica a rivedere anche dovrebbe indurre ampiamente il concetto di reputazione autoregolarsi ad evitare che ci possono essere questi fenomeni infatti cosa che ho detto da tanti anni che anziché aspettare che il magistrato faccia lui giustizia rispetto alla all'inidoneità e alla non serenzia non onestà di un deputato di un rappresentante del popolo è un partito o addirittura la stessa persona dovrebbe immaginare evidentemente lei ha scritto autolimitare con Carlo Panella Gargani ha scritto in nome dei pubblici ministeri dalla Costituente a Tangentopoli storie storia di leggi sbagliati siamo più o meno in tema dal suo punto di vista l'incostituzionalità onorevole Gargani mi ha colpito molto un intervento dell'ex rettore e anche parlamentare dell'università Federico II di Napoli Fulvio Tessitore e oggi ha scritto una cosa in difesa del suo del suo vitalizio insomma tra le altre cose sull'occorino del mezzogiorno Tessitore ha detto cioè ha rivelato io quando ho avuto certezza di questo diritto acquisito quando ho sottoscritto questa sorta di contratto con il Parlamento ho pensato di comprare casa per cui è un esempio molto banale ma importante per spiegare con l'uscita dell'università l'ho investita per contrarre un mutuo adesso se mi tolgono il 40% non so come pagare il mutuo però questo era l'aspetto personale umano di Tessitore circola ancora chi ha avuto una baby pensione si ricorda la baby pensione 25 anni fa credo hanno avuto figli hanno mandato all'università hanno comprato casa hanno fatto mutui se oggi la legge di richiesti diventasse costituzionale quelli devono riconteggiare la loro pensione non mi pare che sia una cosa quindi l'incostituzionalità l'incostituzionalità le leggi le leggi non possono essere retroattive contro la costituzione salvo salvo quelle in materia penale perché quel tipo di reato è logico ed è giusto perseguire sempre senza che ci siano limiti di tempo la non retroattività lo ha detto ho spiegato anche in diversi passaggi l'onorevole Gargani garantisce la certezza dei diritti naturalmente e anche quelli dei diritti acquisiti ecco una legge cioè deve valere per l'avvenire dunque i destinatari devono conoscere preventivamente in quali condizioni giuridiche si verranno a trovare dopo che hanno espletato questa funzione e anche il tessitore dice questa legge è un'offesa al diritto e alla dignità del Parlamento ora io devo ammettere che se queste cose le dice uno come Fulvio tessitore non creda più che valuti più tessitore che Gargani ma Gargani è un politico c'è un tessitore uno è costretto uno è costretto a fare una valutazione aggiuntiva evidentemente un'offesa al diritto e alla dignità del Parlamento insomma dal punto di vista intanto dell'incostituzionalità questa retroattività che è robocciata grossolanamente e volgarmente l'anticostituzionale non è che è sofisticato perché tante leggi sono un po' al limite si può discutere si discute ci sono tante discussioni dottrinarie e giurisprudenziali su questa questione ma questo è chiaramente non ci sono dubbi secondo lei volgarmente loro lo sanno gli uffici della Camera posso rivelare una cosa hanno scritto naturalmente non li possiamo avere queste cose ma gli uffici della Camera che sono gli uffici più importanti sul piano della cultura giuridica che hanno il segretario generale e altri c'è una struttura alla Camera dei Deputati altamente qualificata hanno scritto riservatamente che era una cosa che non si potevano fare loro le fanno lo stesso sapendo perché devono fare il semaforo ha capito come diceva Abusotto era un grande avvocato siciliano che diceva la registrazione è semaforica devono accontentare la Belva che ha fame e c'è chi alla Camera ha detto ma la Belva non si sfama mai perché la Belva ha sempre più fame più vitae la persona questa diciamo così questa incostituzionalità che lei e non solo lei danno per certa della legge Richetti sui vitalizi qualcuno dice vabbè questo è un po' lo specchietto per le allode in realtà una volta che in autunno questa legge passerà all'esame del Senato intanto non ci sono i numeri da qui lei citava il sottopancia di quella trasmissione del Senato paragonato ad una palude il Senato per fortuna non è stato eliminato al Senato non ci sono gli stessi numeri che questo schieramento trasversale che ha votato la legge Richetti alla Camera sono sui 50 anni e poi c'è da dire che al Senato come anche alla Camera ci sono molti parlamentari di questo stesso schieramento trasversale che non sono molto favorevoli che hanno votato a malincuore c'è da dire che il testo arriverà in Senato praticamente in una fase conclusiva della legislatura quando il calendario dei lavori dell'Aula probabilmente sarà molto molto fitto basti pensare alla possibilità come pure si farà in termini di tentativo di riaprire per esempio il discorso sulla legge elettorale e quindi in ogni caso vorrei riirbadire un concetto che l'ufficio di presidenza della Camera ha già tolto il 10% a chi piglia 70 mila euro il 20% a chi ne piglia 80 il 30% a chi ne piglia 90 e il 40% a chi supera i 100 quindi c'è stata una decortazione che è un contributo di solidarietà fortissimo torno a dire se a chi supera i 100 mila euro tolgono 14 mila euro lordi all'anno e quindi netti sui 8 9 mila c'è stata una decortazione abbiamo dato un contributo alla difficoltà del paese poi insieme a questo si fa pure la legge allora la legge non sta in piedi il contributo di solidarietà è stato fatto anche malamente perché anche lì ma insomma è un problema lì formale e allora c'è un'ostilità e siccome 5 Stelle ha un'ostilità nei confronti e il PD si PD PD è un partito di sinistra allora io sono musulmano io sono musulmano se Renzi il suo partito non c'erebbe niente di male essere musulmano sì perché essendo cattolico e cristiano purché non si imbottisca di esplosivo no senza esplosivo ecco è una religione diametrale insomma per cui dico paragone poi è fatto se quello è un partito di sinistra che per la prima volta tocca lo stato di diritto l'ha detto Tessitore ma l'ha detto Lida l'ha detto Tesauro Giuseppe Tesauro ha dato un parere al presidente della Capa che tutti i cittadini dovrebbero leggere perché è scritto che lo possono capire tutti che la legge non si poteva fare per mille e una ragione che la incostituzionale la cosa paradossale non so se se lei condivide e se può aggiungere la sua opinione a questo la cosa paradossale è che dovesse passare anche al Senato questa legge non si calmerebbe più di tanto quella che lei chiama la bestia dell'antipolitica se non dovesse passare la bestia dell'antipolitica riprenderebbe con ulteriore vigore allora la bestia dell'antipolitica quindi non ci sarebbe premialità per nessuno voglio dire meglio quello che ho detto meglio quello che ho detto all'inizio tranne che forse per esempio per i 5 Stelle la bestia dell'antipolitica è alimentata da chi pretende di far politica e la fa sul piano personale come 5 Stelle il referendum del 4 dicembre è una pagina storica per l'Italia perché nonostante la soppressione dei politici nonostante il risparmio nonostante la casta che doveva essere distrutta il 60% degli italiani ha votato vuol dire che ci ha pensato vuol dire che era un messaggio che ha recepito e è andato a votare come non andava a votare da parecchi anni questa cosa viene dimenticata quindi lei mi sta dicendo che il mondo della comunicazione è un mondo che poi regge fino ad un certo punto se poi a dicembre dovendo decidere su questioni più o meno decisive la gente riflette se Gilletti avesse avuto avesse avuto importanza avesse avuto capacità di penetrazione nella mente delle persone il referendum doveva avere il 100% Gilletti credo che è il più ostinato a dire lui che piglia 900.000 euro perché Gilletti guadagna 350.000 euro evidentemente evidentemente sono soldi tutti quel programma raccoglie pubblicità per consentire di a questo vale anche per Fazio ma questi non sono stipenditori il contratto di Fazio la RAI lo paga in tre mesi rispetto al contratto che gli ha fatto per la pubblicità che Fazio garantisce ma sono stipenditori come? sono stipenditori e noi sono di latta sono di cartone va bene va bene sento onorevole Gargani quando la democrazia diventa un costo lei l'ha già detto in altre parole ma quando la democrazia diventa un costo siamo alla vigilia della dittatura lo ha detto Pietro Nenni in anni a fine degli anni a fine degli anni 50 diciamo e quindi mi pare questa una non una bella frase come si dice quella da conservare quella da pubblicare sui social e quant'altro ma sulla quale evidentemente riflettere perché insomma noi riteniamo che l'attuale costo della nostra democrazia al netto della cronaca degli imbrogli dei parlamentari infedeli a se stessi alla repubblica e alle leggi perché insomma non riusciamo a capire che la democrazia probabilmente è la forma più costosa di ordinamento di ordinamento civile nel quale è possibile vivere perché ci sfugge questo elemento perché il legislatore è stato folle pure per il passato avendo tolto il finanziamento dei partiti che hanno eliminato quindi il finanziamento tutti i dipendenti del PD da oggi sono in cassa integrazione e Sposetti stamattina ma lì è stato buttato il bambino con l'acqua sporca perché il finanziamento dei partiti serviva anche a distrarre enorme risorse statali a sostegno di questo o quella politica a sostegno di questo o quel partito è una finzione io posso raccontare una cosa che dimostra come in Europa quando io ho fatto il presidente della commissione giuridica al Parlamento europeo la mia carica la mia presenza del Parlamento è coincisa con i 12 paesi dell'est che sono venuti che hanno aderito all'Europa quando siamo diventati 28 oggi 27 oggi 27 quei deputati di 12 paesi venivano dall'est e pigliavano come indennità 1000-1500 euro essendo venuti al Parlamento europeo si è sentito l'esigenza di omogenizzare il trattamento economico e quindi io ho lavorato un anno per fare tutto questo siccome erano tutti funzionari di partito non rappresentavano niente in quei paesi quando hanno avuto adeguato riconoscimento sul piano della retribuzione quelle democrazie si sono rafforzate quindi anche l'indennità da un contributo perciò si è scritto così nella Costituzione all'autonomia all'indipendenza ha un ruolo i deputati non dovrebbero più essere rispettati dopo questa legge che hanno fatto perché si sono dipendenti dello Stato non hanno quella rappresentanza o quell'alea di riferimento forte a chi affida i suoi problemi la comunità affida al deputato al Parlamento i suoi problemi per il bene comune ma siccome si è dimenticato il bene comune tutto è diventato personale c'è un rancore sociale che ispira le istituzioni si è fatto un referendum per abolire la Costituzione e per andare incontro a una incertezza ecco lei converrà come ha già convenuto che insomma ci hanno messo dell'oro perché questa cosa poi venisse alimentata e venisse assolutamente da questo punto non è che improvvisamente il popolo sovrano improvvisamente il popolo sovrano insorge contro i propri rappresentanti il popolo sovrano ha fatto giustizia anche rispetto a tanti costituzionalisti che facevano finta di essere d'accordo sul sì al referendum sul sì al referendum e ce ne sono parecchi che l'ha visto molto protagonista in lungo e in largo quel referendum sembrava un 5 stelle in quelle settimane perché lei stava dappertutto banchetti e convegni dappertutto ma 5 stelle non sta in nessun bordo stanno a casa fanno le primarie con tante persone non so senza il voto senza la loro mobilitazione anche il 4 dicembre se le proporzioni delle vittorie e delle sconfitte sarebbe stata quella per loro l'hanno fatto per altre ragioni evidentemente sì tornerei su alcune questioni due ultime questioni non è il Gargani intanto ne abbiamo già accennato il rischio con questa legge non riguarderebbe soltanto i quasi 1300 ex parlamentari ma milioni di cittadini calcolabili intorno a 20 milioni che potrebbero vedere messi in discussione diritti acquisiti io ricordavo che Boeri in un'intervista di alcune settimane fa il presidente dell'Inps ipotizzava la possibilità di dare maggiore equità oltre che maggiore equilibrio ai conti delle pensioni dell'Inps e quant'è insomma di cominciare a mettere l'occhio sulle pensioni che superassero i 3500 euro al mese ma davvero è un elemento non dico propagandistico ma insomma un elemento per far paura o davvero è possibile far questo ma è inevitabile la corte costituzionale ha detto che i diritti quesiti che poi c'è un'eccezione possono essere in qualche modo superati se sono temporanei e generali allora non è che solo la camera dei deputati a parte vitalizio pensione che è una distinzione irrilevante a questi fini e il senato neppure perché il senato non ha fatto niente per i senatori solo i deputati e non tutti i cittadini se questa proposta diventasse legge c'è la rivoluzione in Italia che non si è mai fatta perché 20 milioni di persone dovrebbero riconteggiare le pensioni 20 milioni 18 quando sono i pensionati quindi è una violenza è una disgregazione sociale senza precedenti che non ha precedenti ci riflettono tutti i cittadini perché a questo porta e non è che vale la pena è importante che l'emendamento dica vale solo per noi e non vale per gli altri evidentemente la legge vale per tutti o no lo sanno pure la scuola elementare la legge vale per tutti la legge è uguale per tutti e la legge vale per tutti quindi è un pericolo serio per cui non è che si può stare a collegere chi l'ha fatto è ipocrita dieci volte perché l'ha fatto soltanto per affamare la belva temporaneamente per sottostare a questa che si ritiene una polemica diffusa un'idea diffusa un disagio diffuso ma che poi non è vero perché il 60% quando va a votare riflette come ho detto per cui bisogna dire la verità agli elettori noi storicamente la democrazia cristiana credo che non abbia mai mentito se non per piccole cose noi criticavamo Fanfani quando faceva sempre il resoconto dei suoi programmi e dicevamo che la politica era un'altra cosa ma diceva dopo le cose che aveva fatto non prima qua si dice prima le cose che si fanno si inaugurano dieci volte ho letto che la funicolare è ferma a Napoli è stata inaugurata tre volte ma è ferma guasto tecnico può succedere se succede tre volte al giorno non è più un guasto tecnico forse è un po' troppo è cambiata la filosofia della politica il cittadino si allontana per questo per cui è dovere della vecchia classe dirigente Vitale me lo faccia dire dire la verità le cose come stanno al paese anche se certamente chi ci ascolterà qualcuno che ci ascolterà dirà che io ho i privilegi perché la parola privilegi continua a essere detta e entra nella come la pubblicità ci compriamo il dentifricio perché a furi di sentire noi ci proviamo però lei ha anche detto una volta mia moglie dice proviamo sta cosa la televisiva fa tanta propaganda noi proviamo lei ha anche detto però che in fondo parlando del risultato del referendum del 4 dicembre scorso che poi insomma gli italiani i cittadini quando riflettono poi sanno come c'è ci sono anche riflessioni approfondite che possono essere sbagliate però mica è detto che chi vince ha ragione sempre ma dico io ho scritto una cosa e non la voglio ripetere ma è una battuta l'elettore è assistito dallo spirito santo ecco perché fa scelte i cardinali non lo sono più speriamo di no i cardinali lo sono lo sono Andreotti diceva che sono assistito dallo spirito santo ma sforzo loro che votano infatti e sopotano sulla ispirazione dello spirito santo come finirà sta legislatura finirà in tempi finirà ma con quali con quali altri fuchi di artificio o saranno sono quelli già che sentiamo di una campagna elettorale se possiamo dedicare 5 minuti non più queste bagianate perché poi alla fine abbiamo problemi ma lo sai che di questo si sta discutendo in questi giorni in Italia sotto gli ombrelloni nelle spiagge come se non ci fosse altro da discutere si discute di questo ci sono i migranti c'è la crisi economica c'è la crisi sociale c'è la crisi dell'università c'è la crisi della scuola beh sotto gli ombrelloni c'è anche chi dice questo dovremmo badare a cose un poco più che direttamente incidono sulla nostra vita io vorrei dire parlando di politica dico superando questa cosa che è ovviamente importante ci abbiamo dedicato parecchio tempo quindi io sono molto preoccupato da parecchio tempo e quindi vorrei esprimere questo a chi ci ascolta sono preoccupato perché tutto questo insieme a tante altre cose potrei fare una lengua che non finisce mai in un'intervista l'ho fatto tanti esempi se per esempio per un reato la prescrizione la si fa finire dopo vent'anni in Unione Sovietica i reati non si prescrivono mai mai c'è un regime che abbiamo condannato tutto il mondo che è un regime stalinista un paese democratico che stabilisce che un reato si può estinguere dopo vent'anni oppure si dice che per una corruzione c'è il blocco dei beni di chi fa peculato per distrazione un amministratore che fa non è più lo Stato di diritto si toccano i diritti questi gli stessi magistrati che lavorano sulla corruzione hanno detto attenzione attenzione che state facendo pasticcio allora io sostengo una cosa quindi faccio anche un proposito poi si anderemo in autunno e faremo noi arriveremo l'anno e dura a fare le elezioni politiche in Italia c'è bisogno di un comitato di salute pubblica per difendere la democrazia e la libertà e poi magari spunta Robespierre però no 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 come no quando si fanno i comitati di salute pubblica Robespierre sta in agguardo come no spunta Robespierre se non c'è questo nel 46 è stato fatto questo comitato la salute pubblica è un termine per termine ecco propagandistico nel 46 tutti si misero quelli che volevano la democrazia a lavorare per la Costituzione quasi voleva abrogare la Costituzione per avere un potere del governo sul rettizio noi avremmo avuto se il referendum avesse vinto una Repubblica che non era né parlamentare né presidenziale un ibrido unico al mondo quindi pericoloso nonostante questo io ero molto contento dopo il 4 dicembre vedo che personaggio come Renzi continua a lavorare perché ritiene che debba farsi un partito tutto personale diverso e fa cose e fa votare cose alla Camera perché le fa votare poi in definitiva lui molto pericolose per la democrazia per lo Stato di diritto è inutile da essere l'incarne è bisogno di partiti che difendono la democrazia la Costituzione è stata riproposta il 4 dicembre quindi ha avuto di nuovo valore e vigore questa è la Costituzione e ogni paese deve avere una stella polare deve avere un faro è la Costituzione contro la Costituzione non può andare nessuno allora quando si fanno queste cose che sono tutte contro la Costituzione quando il governo Renzi aumenta il periodo di presandare in pensione solo a 50 magistrati e agli altri no e fa una cosa per la quale non c'è lo scandalo ma si c'è qualche critica sul giornale poi tutto torna c'è la stanchezza della democrazia e quindi uno come me lo deve dire sono preoccupato per la stanchezza della democrazia e quindi quando ci si arrende il paragone col fascismo non vale è un dato storico le democrazie stanche si ammalano le democrazie stanche si ammalano e c'è una democrazia malata e allora sull'organismo malato si incide con tutte queste cose onoreo Gargani io la ringrazio molto di questa conversazione devo dire che come al solito lei non mi ha deluso cioè mi aspettavo mi aspettavo di non aver deluso neppure le posizioni spiegate sulle quali anche chi non è d'accordo dovrebbe riflettere insomma è costretto a riflettere così come devono riflettere chi sostiene le sue tesi rispetto a quelle che vengono io non pretendo di avere la verità sia ben chiaro quando sono fondati argomentati forse lo dico in maniera un po' trovo così come dire spero convincente ma una serie di dubbi ma su alcune cose bisogna ragionare bisogna dire ad alta voce quello che è e quello che effettivamente risulta dalle carte la ringrazio molto le auguro buone ferie so che lei è un velista immarcescibile ma bravo sono bravo è bravo come velista velista non per barche grandi velista quelle grandi sulla tavola una tavola quelle fanno divertire e fanno riposare fanno respirare tolgono i pensieri cattivi e fanno venire i pensieri buoni chi dovesse avvistare su una tavola l'onorevole Gargani sulle onde può segnalare il pericolo fotografare e mandare e pubblicare sui social grazie onorevole Gargani grazie a lei grazie a Silvana Picarello che ha curato la regia di questa puntata di Tempo Reale e soprattutto grazie a voi che avete voluto seguirci da casa di nuovo buona serata a tutti e buon fine settimana arrivederci da Gauto concessionaria ufficiale Mercedes-Benz mano calzati nei pressi di Avellino Est grazie a tutti grazie a tutti